Grazie per la presentazione, l'obiettivo del mio intervento è di delineare i fattori e i geopolitici del Giappone che spiegano in qualche modo il nuovo ruolo del Giappone e le scelte geostrategiche che il ministro Aper ha di fronte per far fronte, scusate di smicchio di valore, alla complessa situazione geostrategica dell'Asia Pacifico che ci è strada relativamente con estrema chiarezza illustrata dall'ambasciatore e poi sottolineata dal ministro. Una regione, quella dell'Asia orientale, un soggetto verno della geoconomia mondiale ma piena di flashpoints, cioè di materiali di intenzione che possono sfociare in completi, in cui ci sono tre attori straordinari. Ci sono le tre più grandi economie del mondo, sia la Giappone, la Cina, Giappone che mira come è stato detto alla stabilità del sistema, un obiettivo che può mantenere stabile, una potenza statica poco, come dicono i petrici. La Cina invece che mira, ci ha più chiaramente, all'egemonia regionale. E il terzo attore sono gli stati uniti che invece non vogliono continuare a esercitare in questa regione ma anche loro che hanno sempre tolto quello che gli studiosi di geopolitica chiamano offshore buzzer, cioè il bilancio all'esterno. Questa è la situazione. Io cercherò brevemente, quanto possibile, di cercare di spiegare i fattori geopolitici che sono la base delle scene. Come sappiamo, lo storico di per sé ha, con lo strumento di analisi, il microscopico, con gli archivi, lo vista tra i vari documenti di analisi, il microscopico invece pertenece il cannocchiare, un po' semplicemente rovesciare, in modo da vedere a distanza, con estrema chiarezza l'evoluzione, l'evoluzione o le dinamiche. E la storia del Giappone, come si vede in questa slide, vista dal cannocchiare, era un sostegno di chiusura e di analisi. I cerchi, diciamo così, bianchi, sono quelli della chiusura del Giappone e del suo insularismo. Quelli colorati, dove c'è l'apertura del Giappone dal punto esterno. All'inizio, dal continente ovviamente, dalla poliera della Cina, da cui importò il fruttismo, il santoismo, la struttura. Poi c'è la chiusura del Giappone in un altro aspetto, per i due regali, e poi continuano. Finché nel 1500 arrivano gli europei, arrivano i missionari di chiusura, i mercanti, e introducono in Giappone armi da fuoco e il cristianesimo. Poi c'è la terza di chiusura. Dopo due secoli di prezzo di chiusura in catena, l'apertura del XIX secolo, quando le grandi potenze europee d'Angelo avevano la sfida modernizzante, allora gli uomini del centro del mondo per potenza, per ricchezza e per sapienza, grazie a quelle grandi rivoluzioni che avevano con successo. Svolte la rivoluzione malintica con la scoperta del nuovo mondo, per cui il centro del mondo si sposta dal Mediterraneo all'Atlanta, e poi la rivoluzione capitale, scientifica, l'applicazione della matematica e della scienza applicata, e poi la rivoluzione industriale, quella rivoluzione del capitalismo del mondo. La risposta data dal Giappone e dalla Cina a questa sfida dell'onore delle potenze europee è completamente opposta, tecnica, incerta, insicura a quella della Cina, e la Cina diventa per semi-colonica, non solo delle potenze europee, ma nello stesso Giappone. La corrisposta invece può efficace, immediata, nel giro di vent'anni, il Giappone diventa esso stesso una grande potenza insieme a un'altra grande potenza non europea. Gli Stati Uniti fa il suo ingresso triunfare nel parco scenico della politica internazionale. In dieci anni, Giappone, che è il paese dell'emergenza, dei samurai, eccetera, in dieci anni Giappone sconfisce due grandi imperi, l'impero cinese e l'impero zarista. Questa è una verità di potenzione. Perché questa diversità di risposte? La risposta è data da questa slide che evidenzia le principali differenze geopolitiche della Cina e del Giappone. Beh, la Cina è un titolo immerso, è uno Stato continente, non è uno Stato nazionale, è uno Stato completamente, molto culturale. Il Giappone è il marcianello, la periferia dell'Eucanasia. Da una parte c'è l'immensità della Cina dell'Ascia, l'immensità del Pacifico. Ed è uno Stato nazionale per nascita. non è vero quello che si chiamano le storie, che lo Stato nazionale è nato, come si fa, no? Il Giappone è nato, già da mille anni, 500 anni, che era uno Stato nazionale. E soprattutto il fattore identitato della Cina dell'Ascia del Pacifico. Il fattore identitato della Cina è la sua centralità. La Cina, i cinesi, penso, erano pensato sempre, la Cina è il centro del mondo. Anche io quando ero piccoli io pensavo che il mio paesino del Salento era il centro del mondo. Ma la Cina è uno Stato nazionale, lo Stato nazionale è il centro del mondo. E la Cina si chiama cinesi, era una Cina più un uomo, il centro del mondo. Il Giappone invece ha accentuato non la centralità, ma la insularità, la diversità. Cioè si esalta il Giappone se nell'accentuare la sua specificità, la qualiabilità soprattutto degli orientamenti geopolitici. Cioè di cambiare i suoi orientamenti verso l'esterno. Semplici, parole semplici, non ho molto tempo, su cui ancora mi ha sempre trasmistro, lì nel modo che posso aiutare. Mentre la Cina ha una cultura universalistica, tutti possono diventare il Giappone, tutti possono diventare il Giappone. È il Giappone è difficile diventare, quello posso dire anche per la mia scuola nazionale. bene. Geopoliticamente, l'identità di Giappone quindi si manifesta in Giappone attraverso un'alternarsi di orientamenti verso l'esterno. Abbiamo visto che il Giappone ha una magia di conflittualità e di armonia. Questo movimento, questa attrazione, questo orientamento, io lo chiamo i tropismi del Giappone, che sono sostanzialmente l'intervento, il dipponismo, il giapponismo, cioè la chissura del Giappone nelle sue insule. Ed erano dei cerchi bianchi che abbiamo visto nella seconda slide. Poi c'è un altro tropismo, l'asiatismo. Cioè, l'apertura del Giappone è l'Asia, e ha due diverse variante, due versioni, questo 2013. Il primo è il modello europeo. Quando alla fine del 1800, Giappone si apre, accetta quella sfida, come abbiamo detto, fu ancora un altro successo, la sfida modernizzata dell'Occidente, si apre e a prendere la modella l'Europa. E lo slogan dominante era uscire dall'Asia, entrava in Europa. con i grandi leader dell'Occidente 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 dell'Occidente. Questo modello, l'inizio nel 1868, la nascita dell'Occidente. Poi c'è un altro modello, quello iniziato dopo un bloccato sottopo, nel 2945. Il Giappone, contrariamente alle previsioni degli analisti dei Polismakers, accetta la sconfitta. Anzi, accetta il modello americano di un'Occidente dell'Occidente dell'Occidente. E qui abbiamo un fatto storico straordinario, che veramente sono qualche storico. Anche nel caso degli americani, che è da paese vincitore, che è da insomma un paese collaboratore. del Giappone. E oggi, questo è quello alla fine. Un fatto certo, banalissimo, politologici, scienziati politici. L'opinione pubblica, dopo il famoso, tristemente famoso, spriplice, tragico evento del 11 settembre del 1912, tutta l'opinione pubblica mondiale ha potuto apprezzare una cosa del giorno. La fitness. No, non è la fitness. È la fitness, un termine usato dagli studiosi, dagli studiosi della teoria della complessità, per indicare la capacità di assorbire e di reagire positivamente. Un shock. Di rispondere a sfide complesse, trasformando le minacce in opportunità. Insomma, avere la resilienza. Un termine adesso sta diventando di morbo, che molti lo sentirei in termini, ma non è stato in ritardo dopo l'incidente terroristico. Il senso geopolitico è che per esempio da fitness e da Giappone, significa che Giappone ha questa straordinaria capacità di modificare le proprie proiezioni geologiche, i propri orientamenti. Cambiare il trochismo da occidentalismo a occidentalismo, senza quali di sangue, senza grandi rivoluzioni. Cioè, la resilienza dalla parte, la facilità di mutare il trochismo dall'altro. Dopo il 45, dopo due bomba, dopo non l'una, ma bastava una, dopo due bomba, dopo. Diamo sì, lo scuro. Dopo due bomba, dopo che in Giappone ridaccia. E la storia del Giappone del dopoguerra è una storia di miracoli. Il primo è un miracolo politico. Cioè, contattamente a tutte le previsioni, alle paure degli americani, dopo guerra, l'occupazione del Giappone, la prima volta che il Giappone ridiò quando la presenza sta dietro, va accompagnata da, da democrazia, più pacifismo. Cioè, il paese che era pensato un paese di sangue, un paese di corraffontare, accetta. La democrazia, formalmente imposta da Paccato, in quella piccola norma, in realtà il pacifismo è stato interiorizzato immediatamente del Giappone. Insieme alla democrazia viene interiorizzato il pacifismo su cui si è sottornato la pacifismo. Ma non è solo un grande miracolo politico, è anche un grandissimo miracolo economico. Cioè, nel 1967, il Giappone, uscito dalla seconda guerra mondiale con due bomba atomiche, era la seconda potenza capitalistica avendo superato la Germania liberale. E poi, che fa? In tre ondate successive, in tre ondate successive, il Giappone trascita, traina verso lo sviluppo messa la Rescita, tutta la Sunnita. In tre ondate successive, vedete la slide, il Giappone profila tutti gli altri stati in volo, appunto, in ordine di volo, trascita prima le patrote asiatiche, Corriere del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore, poi le patrote asie maggiori, Malesia, Indonesia, Bailandia, Filippine, e poi l'Hate Capaz, le arete, le cartacane, con la civile, le compiere, le compiere extra, le canne di India. In Giappone, nel 1980, è la propria motiva dell'economia mondiale. Nel 1980, in America, esce un libro che diventa un best seller mondiale, scritto da un eccellente, famoso, del suo, dell'ovice di Harvard. Escafogel, il titolo del libro è Japan es number one. Lessons for America. Cioè, l'Occidente, l'America, seguita dall'Europa, prende il Giacomo del modello. Il fordismo, le macchine fordiste, il fatto che fordiste nostre non sono in grado di rispondere alla sfida del capitolo degli anni settembre, della stag fashion. La macchina fordista non ce la fa. e si ricorda al togionismo, alla banca togionista, cercando di trasformare, di trasformare il togionismo in quello che gli istituzioni delle MIT in America chiamano la dintrodage, la produzione esterna. Parole come TQM, parole di management, parole come Kaizen, parole come Ambra, sono bambini, tra le mani dei manuali di management anche italiani. Poi, all'inizio degli anni avanti la crisi, scoppia una bolla spaventosa che era stata innescata per rispondere a quello che il G5, allora il G7, c'era il G5, il G5, quello che gli istituzioni delle finanze di G5 avevano deciso a poter razza a New York. Cioè, una rivoluzione fortissimo per cercare di bloccarli, proprio di frenare l'esportazione di G5. il G5. entra nel tunnel della crisi è un lungo tunnel e si cerca di rispondere a questa crisi con l'abbonus di cui si è parlato. Nel frattempo c'è una cosa importante la globalizzazione. La globalizzazione, dicendo in parola semplice, cosa ha fatto? Ha ridiviso il lavoro il G5, sono tre posti del lavoro dei paesi industriali avanzati e li danno ai paesi non industriali avanzati. Questo significa il G5 in Italia che si è realizzato. Camparavano con tutti i lavori. Invece i paesi come la Cina sono stati in tasca. Ha dato tutto quello di cui aveva bisogno. Il capitale non gli aveva chiedato. Non aveva chiedito gli andari per ridere. Non aveva neanche per essere portati i problemi in Italia in Italia in Europa ombra dove i cinesi. Non aveva mani dei privi. Ma stavolta in tasca. Però oggi la Cina cambia in tasca. La Banca Mondiale ha messo su Givalà attenzione c'è la pratica del cosiddetto reddito brocapito medico. Il punto in cui critico quando il paese che di gruppo aumenta arrivata a 5-6 mila dollar brocapito e le tipifiche massali bisogna trasformare l'economia da estensiva che intenziva. Un altro due minuti. Ecco. Dal 1912 lo abbiamo sentito soprattutto quando il potere arriva più bene cambia la situazione. Diventa più assertiva la questione con con azioni di 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 eccetera con ambasciatori io non credo che il problema dell'esercato è un problema di che cosa? Della nuova identità cinese che vuole far capire agli americani che ci deve essere una parità strategica. L'obiettivo è un problema obiettivo è strategico legionale della egemonia non è un problema esattamente geopolitanico quindi il sogno di fare della cina la egemonia legionale. cosa che naturalmente non può essere citato dagli Stati Uniti vogliono diventare vogliono mantenere il loro ruolo di offshore attuanza di bilancio dell'esercito naturalmente anche il sogno il sogno il dialogo è uscire dal defrazione da benotis garantire la stabilità della regione in che modo? contenendo la città e quindi rafforzare con le relazioni con gli Stati Uniti ma soprattutto il maggio recuperare lo spirito giapponesi eventualmente anche modificando il nome della città quindi degli retropismi il niponismo non se ne parla proprio la globalizzazione non lo consente e appena sarebbe la regionalizzazione la marginalizzazione del Giappone l'asiatismo non è più praticato rimane l'occidentalismo cioè il Giappone continuerà a essere parte dell'occidente che porterà questa scelta ad una comunità dell'Asia Pacifico che fare? Dio io credo di Giappone io credo di Giappone ma è Giappone non di Dio ma è Giappone la situazione ad un mio problema la situazione dell'Asia c'è nota di Giappone